Esistono luoghi che possono ridare colore alla tua vita. L'incontro Bari-Cavese, previsto per oggi allo stadio San Nicola per la ventiduesima giornata della serie C, girone C, appare sulla carta proibitivo per gli ospiti, considerato il valore dei pugliesi allenati da Gaetano Auteri, ma la Cavese non vuol stare a guardare e proverà a piazzare la sorpresa. Dopo la vittoria ottenuta domenica sul Bisceglie, i bianco-blu sono rientrati in corsa per non occupare l'ultimo posto a fine campionato e le loro percentuali di raggiungimento dell'obiettivo potranno cominciare a delinearsi proprio in questi giorni. Oggi alle 17.30 la Cavese affronterà il Bari fuori casa, domenica invece ci sarà la Paganese a Lamberti. Mister Salvatore Campilongo, tecnico degli Aquilotti, ha presentato ieri in sala stampa la partita di questo pomeriggio con i Galletti. Io mi aspetto dal Bari che parte a 2000 all'ora, che subito ci vuole mettere sotto, fare la partita. Noi dobbiamo essere bravi a rintuzzare, dobbiamo essere bravi a non chiuderci, ad avere le nostre chance a ripartire, perché naturalmente se questa squadra ci viene a prendere alti e ci pressa, siamo anche consapevoli che avendo delle grandi qualità anche noi in avanti, li possiamo mettere in difficoltà nelle ripartenze. Noi non siamo la vittima sacrificale di quello che può essere la partita, la partita ce l'andiamo a giocare, ce l'andiamo a giocare con una grandissima moglie di fare bene, queste sono le più belle partite che un giocatore possa giocare. La probabile formazione della Cavese per oggi, Russo, Matino e Semeraro, Scoppa, Lancini e De Franco, Senesi, Matera, Gerardi, Gatto e Bubas. Il fantasista Calderini, sotto di fida, potrebbe essere inizialmente risparmiato dal mister. Non ci sono il centrocampista Cucurullo e il difensore Senese, il modulo che Campilongo sceglierà dovrebbe essere un 3-4-3. Probabile risposta del Bari, Frattali, Ciofani e Minelli, Maita, Di Cesare Celiento, Rolando, Derisio, Antenucci, Dursi e Marras. Quindi Gaetano Auteri, che deve fare a meno dell'esterno semenzato, squalificato, dovrebbe impiegare a destra Ciofani, con Rolando a sinistra. Auteri ha due opzioni tattiche, 3-4-3 o 4-4-2. Il Bari arriva dalla sconfitta rimediata a Teramo, con i due gol subiti nel finale, con la squadra in 10, e si trova al secondo posto a 41 punti, 11 di meno rispetto alla Ternana. La Cavese ha invece solo 12 punti, ma ne ha ottenuti 4 nelle ultime due gare, e andrà in campo oggi conoscendo già il finale della partita Paganese-Catanzaro e prima dell'altro match Bisceglie-Avellino. I meteliani lottano per evitare l'ultimo posto, proprio con il Bisceglie e con la Paganese. L'arbitro dell'incontro Bari-Cavese, che avrà inizio alle 17.30, sarà il signor Michele Del Rio, della sezione di Reggio Emilia. I suoi assistenti saranno invece i signori Bianchini e D'Angelo, entrambi di Perugia, quarto uomo di Marco Di Ciampino. Intanto la Cavese ha comunicato il proprio cordoglio alla famiglia di Fabrizio Bobbiesi, il calciatore della Cavese versione 85-86, che è improvvisamente scomparso ieri, aveva 62 anni ed era stato presente anche alla festa del centenario due anni fa. E vi è anche il cordoglio ovviamente da parte dei tifosi cavesi e di tutti noi. Al 13, ieri si è giocato un anticipo d'alta quota Foggia-Teramo ed è finito 0-0. Ambedue le squadre restano appaiate a 33 punti. Inoltre c'è stata una notizia di calciomercato ufficializzata proprio ieri. Il Potenza ha tesserato l'attaccante Fabio Mazzeo, che aveva avuto richieste dalla Turris e anche dalla Cavese. Mazzeo va dunque a sostituire Pietro Cianci, passato al Bari.